Le caldaie delle scuole cittadine ricominciano a funzionare. L'assessore Patrizia Panarello ha comunicato ieri durante il nostro telegiornale che i tecnici raggiungeranno nei prossimi giorni tutti gli istituti cittadini, ma ci sono scuole a Messina che non hanno nemmeno una caldaia da riavviare o aggiustare. È il caso della scuola elementare di Bisconte, dove non c'è un impianto a gasolio, c'è un contatore del gas, ma i tubi tranciati. A porre la questione il consigliere comunale Nino Carreri, mentre le mamme dei bambini che frequentano questa scuola stanno pensando di autotassarsi per acquistare delle stufe elettriche perché quelle che ci sono non bastano per tutti. In questo caso però il problema non è legato alle forniture di gasolio che in tante scuole stanno creando difficoltà. Il problema della scuola elementare di Bisconte è che i bambini in aula avrebbero solamente poche stufe elettriche a disposizione, non bastano per tutte le aule. Provvederò a mandare una nota all'assessore Panarello affinché verifichi lei stessa la situazione, si renda conto che qui non si tratta di cose antiche, vecchie a cui bisogna dare sicuramente una soluzione. Ma quello del mancato riscaldamento non è il solo problema. Le aree esterne alla scuola sono sporche, invase dalla vegetazione, un contesto di degrado che non fa onore all'amministrazione comunale. Parlo di Bisconte Grazie a tutti.